Ciao ragazzi, come sapete sono di Cesena, una delle tante città colpite dall'alluvione di questi ultimi giorni. Noi tutti stiamo vivendo momenti difficili, ma come noi anche Aprilia non vuole fermarsi e d'accordo con le autorità locali ha deciso di confermare Aprilia All Stars il 27 di maggio presso l'autodromo di Misano. Ci saremo anche per portare un aiuto concreto. L'ingresso è gratuito, ma per ogni persona che parteciperà Aprilia farà una donazione in favore alle popolazioni colpite dall'alluvione. Chiunque vorrà potrà dare il proprio contributo. Si potranno comprare delle magliette dell'evento e delle esperienze speciali tipo un giro in pista con me. Il 100% del ricavato verrà devoluto in beneficenza. Più siamo e più doniamo. Ragazzi, vi aspetto, insieme ce la faremo. Grazie.